Non siete dentro una candid camera, cari cittadini di Belpasso, beccati a gettare la spazzatura in strada, immortalati dalle immagini di una telecamera nascosta all'interno di un'auto, appostata proprio davanti alla microdiscarica creata dai rifiuti abbandonati. È l'iniziativa del sindaco Carlo Caputo che ha deciso di combattere l'inciviltà quotidiana dilagante nel suo paese, svergognando i concittadini irrispettosi attraverso dei filmati pubblicati sul suo profilo Facebook. Una lotta a colpi di like, già oltre 140 per il video dal titolo emblematico, i nuovi zozzoni, i quali, oltre l'imbarazzo di essere stati colti, è proprio il caso di dire, con le mani nell'immondizia, seppur non visibili nei volti per rispetto della privacy, dovranno pagare anche una multa salata. Un lavoro certosino, quello compiuto dall'amministrazione comunale, che ha installato altre telecamere itineranti in diverse zone del paese, i cui video, assicura da un post su Facebook il sindaco Caputo, saranno pubblicati nei prossimi giorni. Toleranza zero contro l'abbandono indiscriminato di rifiuti dunque, per un'educazione alla civiltà sempre più social.